Minecraft è stato inventato da un singolo sviluppatore che si chiama Calogero Minecrafti ed è proprio basandosi sul suo nome di battesimo che hanno creato Zelda Tears of Calogero Se guardi bene, nella schermata del titolo c'è un cubo! I maiali sono la creatura più prosciuttosa del gioco, dopo il drago di prosciutto, Lambda Dragon Se premi tutti i pulsanti vinci, ma devi premere tutti i pulsanti del mondo! In Minecraft non esiste la carbonara, per questo multiplayer gli ha dato solo un voto di poco su dieci Con 9 miliardi di copie vendute, Minecraft è diventato il gioco più venduto della storia scalzando Tetris, Wii Sports e Nascondino Premium L'abbonamento ha solo i 9,99 al mese per giocare a Nascondino tutte le volte che vuoi Il protagonista del gioco si chiama Sonic Advance 3 C'è uno Scottex Gigasin su Minecraft, con dentro dei kendall segreti! La patch 1.13.xyzw ha aggiunto la carbonara nel gioco, ma la ricetta contiene dei cubi di panna! Cumi, 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 cumi